Sono molto orgoglioso dei miei giocatori, hanno fatto una grande partita, 1-2, dobbiamo fare questa partita perché queste sono le partite che dobbiamo giocare, anche in ottica calendario, campionato che ci interessa e entrare nei play-off. Detto questo parliamo di basket, dobbiamo fare quel piccolo passo in più perché a un certo punto quando non riuscivamo più a andare in lunetta, eravamo anche in rotazione ridotta con tanti falli, si doveva avere la pazienza di giocare forse un filo di più la palla e lo dico in ottica futura perché oggi è chiaro che l'adrenalina, la partita, il gioco, le responsabilità che hanno preso i giocatori, però magari potevamo costruire un po' di più, poi onestamente ci aiutava qualche tiro libero perché nell'ultimo minuto abbiamo avuto 2-3 occasioni di andare a più 3 e non siamo riusciti ad andarci. Pazienza, consegniamo comunque la Coppa a una squadra che ha fatto una bella partita che merita rispetto per quello che sta facendo, la partita è stata una grande partita e da questa noi costruiremo perché la Coppa per il campionato è molto molto importante. Noi l'anno scorso l'abbiamo vinta, quest'anno l'abbiamo persa ma giocando una grande partita, quindi giocheremo altri grandi partiti.